Un caro saluto da Diego Fusaro. Su questo canale che ormai da più di dieci anni porta avanti le ragioni della filosofia, intesa sia come storia della filosofia sia come ontologia del presente, quindi come tentativo di filosofeggiare sulle cose che accadono, abbiamo ovviamente sempre dedicato grandissimo spazio ai classici del canone occidentale e tra questi naturalmente uno spazio a sé merita indubbiamente Platone, il divino Platone, colui il quale sta più di ogni altro filosofo a fondamento della nostra civiltà, si badi non solo della nostra filosofia occidentale ma più in generale dell'intera nostra civiltà. Non v'è Occidente senza Platone, togliere Platone dalla storia dell'Occidente significherebbe, e o ipso, rimuovere l'Occidente e la sua idea. Vestato anche chi, senza esagerare, ha detto che l'intera filosofia occidentale è una nota a piedi pagina di Platone, chissà, forse potremmo avventurarci a sostenere che l'intero Occidente non è altro che una nota a piedi pagina di Platone, e ciò anche se si considera che, come diceva Nietzsche, lo stesso cristianesimo non è altro che platonismo volgarizzato per il popolo. Ebbene, in questi mesi molti di voi mi hanno chiesto da dove cominciare per avviarmi alla conoscenza di Platone. Durante questi mesi abbiamo anche condotto un'analisi libro per libro della Repubblica, i Dieci Libri della Repubblica, della Politeia di Platone, e in molti mi hanno detto, d'accordo, ci hai segnalato da quali dialoghi di Platone cominciare per avviarci alla conoscenza del grande filosofo greco, ci hai segnalato il Fedone, il Fedro, il Simposio come testi di avviamento consigliati, ma in concreto se noi volessimo comprendere l'opera platonica con uno sguardo sinottico, da quale testo introduttivo potremmo cominciare? Ovviamente una domanda non da poco, perché sono moltissimi, direi che è sterminata la letteratura critica intorno a Platone, vi sono libri per addetti al tema, naturalmente, vi sono libri di avviamento per chi non abbia mai affrontato questioni platoniche e proprio in questi giorni di fine dicembre 2020 esce in tutte le edicole un testo che mi pare un'ottima sintesi, un ottimo avviamento al pensiero platonico, ve lo mostro direttamente dato che l'ho qui con me e l'ho appena letto con attenzione e mi sento quindi di consigliarlo vivamente come avviamento all'opera platonica. È un testo che si intitola Platone, le risposte più attuali alle grandi domande su conoscenze etiche e giustizia nella collana Imparare a pensare. Tra l'altro mi permetto di consigliarne la lettura, lo trovate in tutte le edicole a un prezzo lancio davvero simbolico di un euro e 99, quindi è una spesa che val bene la pena fare per conoscere il divino Platone. Chi volesse poi prendere l'intera collana basta che vada sul sito imparareapensare.it, ripeto www.imparareapensare.it e può trovare in anteprima la possibilità di acquistare, di assicurarsi l'intera collana di avviamento ai grandi filosofi del canone occidentale. Questo volume ha un pregio tra i tanti, quello di rendere accessibile, introduttiva la lettura del pensiero di Platone. Vi sono sette capitoli che prendono in esame alcuni plessi teorici fondamentali del pensiero di Platone, vi è un glossario, vi sono le letture consigliate, è davvero una buona introduzione che consiglio a tutti. La trovate in tutte le edicole dal 31 dicembre del 2020, davvero leggetelo perché è una buona guida introduttiva per chi non conosca Platone, è un buon compendio ricapitolativo per chi già conosca Platone, merita davvero di essere letto. Ripeto, Platone nella collana imparare a pensare dell'editore RBA in tutte le edicole dal 31 dicembre 2020 e in più se volete l'intera collana basta che andiate su www.imparareapensare.it. Buona lettura a tutti!